Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Un'altra scossa è stata avvertita nella tarda mattinata nel Piciano dopo il terremoto 4.1 di ieri a largo di Cupra Marittima. Il sisma di 3.3 ha avuto però il piccentro ad Acquaviva Picena e a una profondità di 21 km, mentre nelle ultime 24 ore sono state 9 in totale le scosse registrate nel mare Adriatico, ma quasi tutte di assestamento. In riviera torna dunque la paura. Ero sul letto, ho sentito tremare il letto, pensavo che non sto bene e dopo mi sono accorta che magari è il terremoto. Ho chiamato il mio marito dal divano che dormiva, siamo scappati fuori, non c'era nessuno come noi spaventato fuori. Siete in vacanza qui? A Cupra siamo. Ah, quindi proprio davanti a Cupra, avete avuto paura? No, avevo paura. Hai avuto paura? Un po'. Avete paura che possa avvenire? Io spero proprio di no. Sì, io stavo lavorando nella mia struttura e abbiamo praticamente sentito 4.5 mi sembra e abbiamo tranquillizzato i nostri pazienti. Qualche timore su questo? Guardi, timore diciamo, siamo in un posto di mare, è normale che possa con queste temperature, insomma, anche la pioggia, il vento possa anche aver fatto questo. Io spero insomma che non si ripeta perché non è un bel evento. Sì, l'ho sentito, l'ho sentito, è stata abbastanza forte, però è stata presa all'improvviso e comunque vabbè, ormai sono abituata. Ha avuto paura? Lì per lì dico cos'è, vabbè, poi non paura, ormai queste paure ce ne abbiamo tante. Paura, oddio, un po' di timore c'è stato perché la scossa è stata avvertita con una certa forza, con una certa... Io ero sdraiato sul divano un attimo, l'ho avvertita anche un po' nel dormiveglia, comunque un po' di preoccupazione c'è sicuramente perché sono cose che non si possono un attimo prevedere. Il geologo dell'UNICAM, Emanuele Tondi, spiega meglio l'evento sismico, tranquillizzando sul fatto che lungo la costa marchigiana a sud di Ancona la pericolosità sismica è minore rispetto alle zone interne appenniniche, ma ci sono comunque faglie attive che hanno già generato in passato terremoti importanti come quello del 1987 di magnitudo 5.1 con epicentro sempre in mare e poco a largo di Porto San Giorgio. Dunque potrebbero esserci delle repliche più forti rispetto a quella di ieri. Anche in queste zone è quindi importante essere preparate ad affrontare nel migliore dei modi un'eventuale emergenza sismica e attivarsi per la prevenzione, verificando la vulnerabilità sismica di edifici e infrastrutture. Proprio come fatto ieri nelle scuole dei comuni costieri che oggi sono regolarmente aperte sia agli asili che le medie dove si stanno svolgendo gli esami.